attraverso la nostra vetrina puoi pubblicare e far valutare gratuitamente il tuo bene ad un pubblico di oltre 15.000 visitatori profilati al mese il tuo bene verrà pubblicato nella nostra vetrina generale e nella singola categoria avrai una scheda dedicata dove saranno visibili foto descrizione e dettagli gli interessati potranno fare una valutazione non vincolante attraverso una fascia dinamica di importi se cliccheranno sul diamante potranno aggiungere il loro wow e il tuo bene salirà rapidamente di posizione rispetto agli altri più visibilità più possibilità di vendita grazie al nostro cruscotto potrai avere una semplice lettura dell'andamento del tuo bene visualizzazioni condivisioni wow e valutazione media perché wandaic alte prestazioni oltre 15.000 utenti profilati al mese e presenza sui principali cluster di settore spazio all'esperienza professionalità ed innovazione per la prima casa d'asse online specializzata nel settore di lusso comodità e particolari pensiamo a tutto noi dalla gestione delle pubblicazioni al report dei risultati non aspettare compila il form e dai una nuova vita al tuo bene non aspettare compilità